segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te volevo chiederti questo io ho chiesto a raiz senti ma non è che facciamo una roba di quelle che vanno su tik tok e poi i ragazzini spaccano di tocche per mille motivi fra ci metta a te questo per vendicarci dei social ma si usiamo lì noi non facciamoci usare ma facciamo e io ho detto senti mi fai don salvatore con la voce di raiz diciamo a quelli che sai don salvatore che canta che ci frega torna tutto utile e e canti un pezzetto dei per me tu per te dopo di che dopo di che ci abbiamo provato no no poi mi propongo proprio dico emanue se mi stai guardando se guarderei questa cosa guarda quanto so bravo mi vuoi anche portare come corista don salvatore come corista di pieni no perché voglio dire emanuele cioè tre sold out al maradona e non sono poco ma tu quanti ne abbiamo fatti noi d'alma migretta che quante volte a vedere a vedere la partita a vedere la partita a vedere la partita del napoli tante volte però una volta suonato pure io al maradona all'epoca ancora di quando il napoli tornò in serie a dopo mille peripezie ci fece suonare in mezzo al campo in mezzo a una n gigantesca una grande emozione peccato però no è peccato che però era l'ultima partita col genoa e sai tu vorresti insomma almeno vincere invece non vinceva vabbè adesso sta cosa nato edipe comunque è finita bene sta storia napoli sta promossa grande merito di arma migretta e allora a modo tuo se tu comunque no 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 io allora io ho detto pure a Giorgio 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 io posso essere padre quindi anzi Emanuele posso essere padre quindi mi permetto come un padre di cantare la canzone del figlio però è ovviamente con i gusti del padre è certo perché sennò con i tempi del padre con i tempi del padre col passo del padre è tutto molto più lento è certo è un po' qui dal mamme grettato quindi io mi levo leghiamo i cubetti proviamoci proviamoci grazie a tutti Canta Johnny!